Ragazzi è assurdo, ho comprato questo joystick per la Playstation ad un mercatino ad un prezzo irrisorio e ho scoperto che mi permette di viaggiare nel tempo. Basta cliccare questo tasto, ragazzi è assurdo. Ho comprato questo joystick per la Playstation ad un mercatino ad un prezzo irrisorio e ho scoperto che mi permette di viaggiare nel tempo. Basta cliccare questo tasto, ragazzi è assurdo. Ho comprato questo joystick per la Playstation ad un mercatino ad un prezzo irrisorio e ho scoperto che mi permette di viaggiare nel tempo. Basta cliccare questo tasto, ragazzi è assurdo. Ho comprato questo joystick per la Playstation ad un mercatino ad un prezzo irrisorio e ho scoperto che mi permette di viaggiare nel tempo. Basta cliccare questo tasto, ragazzi è assurdo. Ho comprato questo joystick per la Playstation ad un mercatino ad un prezzo irrisorio e ho scoperto che mi permette di viaggiare nel tempo. Basta cliccare questo tasto ragazzi è assurdo